La famiglia Banfi-Lagrasta è di nuovo in lutto. A due mesi dalla scomparsa della moglie Lucia, Lino Banfi apprende la triste notizia della morte del pronipote. Si tratta di Emanuele, figlio adottivo di Michele Lagrasta, cugino di Rosanna Banfi, di soli 18 anni. Si sarebbe gettato dal settimo piano di un palazzo di Vimodrone, a Milano, e potrebbe essersi suicidato. I funerali si sono svolti giovedì 20 aprile. La notizia è stata data dalla figlia dell'attore, Rosanna Banfi, in uno straziante post sui social media. Cara mamma, oggi è il tuo compleanno, ma per fortuna non sei qui, ha scritto, esprimendo i suoi sentimenti per la madre recentemente scomparsa. Non hai dovuto assistere al dolore straziante del tuo amato fratello Nicola nella grande tragedia che ha colpito la tua famiglia, ha spiegato la donna. Tra le tante foto che ha visto nella sua casa, ricorda il bellissimo ragazzo che teneva tra le braccia, Emanuele. Aveva 18 anni, quando ha deciso di intraprendere il suo viaggio di non ritorno, lasciando i suoi genitori e tutti noi attoniti, continua Rosanna. Mamma, ti prego di abbracciarlo come hai fatto allora, e di prenderti cura dei ragazzi indifesi che questa società ha creato, incurante delle loro anime fragili. Madre, è sbagliato, non funziona così. Non sono credente, ma vorrei che ci fosse un dio che potesse aiutare questa famiglia. Mi mancano?